signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefem 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno eccoci qua pronti con la top 10 numero 10 per i pinguini tattici nucleari pastello bianco numero 9 per mecnacoco la più bella posizione numero 8 per cesare cremonini con colibri numero 7 per elodie il brano vertigine per me che sfioro il cielo dall'ultimo piano e non mi sembra più lo stesso e adesso non so più che fai posizione numero 6 per l'orezzo cherubini giovanotti il boom vasco rossi lo troviamo alla quinta posizione con siamo qui quarto posto per elisa con il brano seta coez posizione numero 3 per lui come nelle canzoni numero 2 per marco mengoni con cambia un uomo ed arriviamo alla prima posizione marrakesh con crazy love è lui il numero 1 dove sei dove sei calamità un po' calamità Grazie a tutti